Noi abbiamo voluto fare questa conferenza stampa in loco, quindi ci siamo spostati dal tavolo istituzionale del Comune di Pescara, siamo venuti qui di fronte alla sede dove sarà un po' il cuore di questa iniziativa. Un'iniziativa importantissima, un'iniziativa di 10 anni, di un importo importante, circa 380 mila euro di finanziamenti pubblici, dove questa amministrazione intende intervenire anche sul tessuto sociale di questo quartiere. Oltre a tipi di interventi con attività, ad esempio sulla sicurezza, quindi che svolgono le forze polizie, di concerto anche col Comune, fra un anno installeremo tante telecamere all'interno dell'impianto di controllo sulla sicurezza della città. Con questo progetto importantissimo del Bando delle Periferie, noi andremo a intervenire proprio sulla parte sociale della cittadinanza di questo quartiere, dove avremo tanti psicologi, assistenti sociali, sociologi, che cercano, daranno diversi supporti, daranno dei supporti ad esempio a quei ragazzi che ci sono, c'è anche un po' troppo abbandono scolastico, facendo capire ad esempio l'importante della scuola, dando anche un supporto in tal senso, intervenendo ad esempio sulla fascia del tossicodipendente. In questo senso abbiamo lanciato anche prima anche una forma di controllo su questo, anche delle attività abbastanza spinte che faranno questa cooperativa che è un po' il braccio armato del Comune di Pescara, la cooperativa On The Road, per il quale già gestisce tanti servizi, per il quale si andrà a far capire a queste persone ad esempio dove li può portare la droga, si andrà a dare un supporto a queste persone ad esempio che soffrono di marginalità, ci saranno anche per esempio i mediatori culturali per far sì che ci sia anche una maggiore integrazione fra gli immigrati e le persone del posto. Quando ci sono delle problematiche di questi quartieri, noi ci crediamo che ci possa essere anche la rinascita anche di questa periferia, non si fa facendo polemiche, si fa mettendo in campo diverse azioni. Questo rappresenta una delle tante azioni che questa amministrazione pone in essere per la rinascita di questo quartiere periferico, per appunto Rancitelli, che non può essere soltanto un quartiere da ricordarsi facendo delle conferenze stampa sotto al ferro di cavallo. Qua ci sono tante belle realtà e noi le vogliamo anche far venire fuori.